È un corso molto tattico, tutti si controllavano e niente, l'unico era un po' curato da tutti, quindi quando si è un po' controllato è sempre molto difficile. Finalmente ha vinto Evans perché era meno controllato gli altri perché si può. Quello può anche essere sicuramente, era comunque uno dei favoriti perché usciva con una grossa condizione dalla Vuelta e si è mostrato un percorso molto duro soprattutto negli ultimi due giri. Lui non si aspetta che vinci una gara, è vero questo, non è un vincitore, vuol dire che quando parte c'è un momento, vediamo abbiamo il tempo e Evans gioca questo. Quello sì, si era parlato comunque che Evans poteva essere un uomo molto importante per il mondiale, quindi alla fine è un uomo importante per come correre e si è mostrato un uomo che è riuscito a vincere il campionato del mando meritatamente. Ti ringrazio.